undicesima trasmissione di cabina stampa sport e parte l'applauso bene bene abbiamo ospiti d'eccezione questa sera iniziando dalla mia destra con Alessandro Cuccia applausi Daniele Ferretti che ormai è un abituire della trasmissione ma più viene in trasmissione più gioca meglio te tocca Daniele sono obbligato sei obbligato i due opinionisti Elia Grilli buonasera e Emanuele Grilli buonasera a tutti allora questa sera faremo una trasmissione particolare perché c'è un po' di giusta sana effervescenza di sano ottimismo anche perché il Gubbio domenica ne parleremo tra poco ha vinto stravinto ha dominato completamente una partita seppur rischiando qualcosa nel finale a Pian Castagnaio continua la rincorsa alla vette il Gavorrano non si ferma ma nemmeno il Gubbio e allora diamo lettura dei risultati che sono stati i seguenti nell'anticipo Gualdo Casa Castalda San Giovanese 0 a 3 Spoleto Scandicci 0 a 1 Ponsacco Città di Castello 1 a 1 Montecatini Foligno 4 a 2 Massese Chivizzano 0 a 1 Pianese Gubbio 0 a 1 come detto Colligiana Giolli Montemurlo 0 a 2 Sansepolcro Poggi Bonzi 1 a 1 Gavorrano Viareggio 1 a 0 e adesso guardiamo gli incontri di domenica prossima che sono Città di Castello Colligiana Foligno Gavorrano Poggi Bonzi Gualdo Casa Castalda Scandicci Massese San Giovannese Pianese Viareggio Ponsacco Gubbio Montecatini Daniele serve un gol ci proviamo per forza ecco e poi la serie si chiude con Givizzano Sansepolcro e Giolli Montemurlo Spoleto però io vorrei se è possibile andare sulla classifica e guardare che il Gavorrano ha 46 punti Montemurlo Givizzano Montecatini 41 Gubbio 40 tutto il resto è noia non ci interessa e poi voglio fare un altro annuncio importante perché da domani sarà in distribuzione gratuita il quindicinale diretto da Francesco Caparrucci fondato e diretto da Francesco Cronaca e Ugubina all'interno troveremo un ampio servizio sulla partita che il Gubbio ha vinto e stravinto a Pian Castagnaio contro la Pianese poi un bel servizio per quanto riguarda la nostra trasmissione cabina stampa sport che sta avendo successo perché abbiamo dei contatti da tutto il mondo veramente da tutto il mondo perché essendo in web tv è possibile vederla ovviamente anche dalla Sicilia dall'Abruzzo da Marte l'applauso qui però ci stava bene l'applauso e poi vi voglio far vedere la locandina del nostro film che andremo a girare credo all'inizio dell'estate giugno luglio insomma diciamo in estate questa è la locandina del film di Cronaca e Ugubina il 28 di febbraio domenica si svolgerà il casting al ristorante Fabiani in piazza 40 Martiri dalle 14 alle 19 ma la cosa bella e trovate sempre tutto nel numero di domani nel nuovo numero di Cronaca e Ugubina è che il film è avuto già a scatola chiusa perché ovviamente hanno capito l'importanza del film il patrocinio del comune di Gubbio un applauso allora finito di fare queste cose che però ci piacciono e a cui teniamo molto perché è un prodotto sempre di Cronaca e Ugubina cominciamo con la trasmissione sportiva vera e propria prima di dare la parola ai nostri due graditissimi ospiti io vorrei sentire subito da Emanuele Grilli il suo giudizio sulla prova del Gubbio a Pian Castagnaio visto che abbiamo visto la partita insieme sì allora devo dire innanzitutto che è stata una vittoria assolutamente meritata perché il Gubbio ha dominato e ha giocato molto bene dal primo all'ultimo minuto la pianese non era comunque l'avversario più scarso che potessimo incontrare perché comunque ci ha messo in difficoltà nonostante il livello tecnico inferiore il Gubbio ha nettamente dominato e meritato di vincere però l'unica cosa che non mi è piaciuta tanto è il fatto che abbiamo fatto un solo gol e nel calcio sappiamo che purtroppo anche quando giochi benissimo e domini l'avversario può bastare un errore, una piccola giocata individuale degli avversari e il risultato dopo si va a far benedire però comunque nel complesso sono estremamente soddisfatto sentiamo invece Elia che era sempre di fianco a Emanuele per questa partita allo stadio comunale, tra l'altro bellissimo, un bel terreno di gioco ne parleremo tra poco di Pian Castagnaio che Gubbio hai visto e eventualmente quali difetti non è facile trovarli perché a parte il fatto di aver segnato un solo gol però mi sembra che dal punto di vista tecnico e tattico il gap di differenza sia stato evidentissimo diciamo che per un'ora e un quarto c'è stato proprio un dominio assoluto del Gubbio e comunque sia, sì, sono parzialmente d'accordo con Emanuele però c'è da dire anche il fatto che il Gubbio ha fatto due tiri davanti la porta e ha trovato di fronte a sé un portiere che ha compiuto no due miracoli ma proprio la benedizione del Padre Eterno perché soprattutto il tiro su Romano credo che una parata su un milione il portiere riesce a pararla perché quello è quasi sempre gol comunque ho visto una partita veramente bellissima un Gubbio stupendo sotto ogni aspetto ha giocato veramente la partita perfetta e credo che se continuiamo a giocare con questo spirito e con questa voglia possiamo arrivare molto molto lontano Daniele Ferretti da quando sei venuto a Gubbio hai sempre avuto un rendimento increscendo a Pian Castagnaio secondo me che non capisco niente di calcio è stata forse la tua miglior partita è stata una prestazione importante però secondo me è stata una prestazione importante da parte di tutta la squadra perché abbiamo fatto come diceva Elia un'ora e un quarto di ottimo calcio e adesso ci si inizia un po' a divertire quando si gioca poi peccato perché abbiamo fatto un solo gol e quello si come diceva Emanuele magari poi dopo rischi magari di compromettere una partita stradominata magari per un errore singolo si però ascolta questo non deve diventare un assillo perché io ti rivolto la frittata e ti dico firmeresti per vincerle tutte una a zero e soffrire? sì, tutta la vita e allora sì, sì è tutto relativo voglio dire parlavamo prima del Foligno che magari ha fatto tanti gol di Paola 15 gol non so però bisogna bisogna poi vincere le partite così come i campionati quindi per adesso firmiamo per l'1 a 0 poi dopo ne faremo di più ben venga magari anche qualche gol tuo perché ora che comincia a segnare che amico mio ne hai fatti due soli sono pochi no sì, infatti io dico mi cioè dico mi piace più fare gli assist ma adesso mi piace più far gol applauso bravo Daniele bravissimo la domanda a te del Col non te la faccio perché con quegli scatoloni che hai al posto dei piedi puoi solo fare il mediano una vita da mediano a parte scherzi Alessandro Alessandro Cuccia grande rivelazione del centrocampo del Gubbio giovanissimo sei del 1996 1997 praticamente hai finito di giocare l'altro ieri con i soldatini e ti sei messo a giocare al calcio a parte gli scherzi come ti stai trovando e dai un giudizio tu sulla tua prestazione a Pian Castagnaio che ripeto io non capisco niente di calcio è stata veramente buona beh qua a Gubbio mi sono trovato bene sin dal primo minuto perché appunto tutti mi hanno accolto benissimo mi hanno fatto sentire già da subito parte della squadra poi in quanto a domenica penso è stata un'ottima prestazione da parte di tutti i ragazzi quanto a me sì sono soddisfatto anche perché devo ringraziare molto i compagni più grandi tra cui anche Daniele Alfredo Zuppardo ha dato del vecchio più grandi di me assolutamente perché ogni domenica anche ogni allenamento mi danno una mano sempre per crescere giorno per giorno io ho una curiosità i capelli cioè sono naturali o tu la mattina te li giri uno per uno naturali naturali bene allora siccome è naturale che ogni dieci minuti noi ci fermiamo linea allo studio